In questo momento tutti ci dobbiamo chiedere che cosa non abbiamo fatto e perché, se alcuni ragazzi già si sapeva qualcosa, perché non sono state segnalate prima delle criticità? E' sempre questo, noi arriviamo sempre dopo, poi è chiaro, è un momento delicato, particolare, tante volte la società civile cosa fa? Si commuove, ma non si muove. Adesso è il momento dell'impegno, è il momento della risposta, è il momento di sporcarsi le mani. Don Antonio Coluccia, sacerdote da sempre impegnato con i giovani nella lotta alle mafie, parla dell'omicidio del 16enne Thomas Luciani avvenuto il 23 giugno scorso nel parco Baden-Powell a Pescara. Una tragedia nella tragedia perché commessa da coetanei di Thomas. Il sacerdote è stato invitato dal prefetto per firmare un protocollo d'intesa per un uso consapevole della tecnologia da parte dei più giovani. In questo momento c'è bisogno di prendere coscienza di ciò che è accaduto e soprattutto poi agire. Agire vuol dire tutte le istituzioni in campo, cominciando dal prefetto con l'autorità di governo, insieme soprattutto anche alla procura dei minori, cercare di mettere in atto protocolli che possano aiutare soprattutto l'uso consapevole del mondo del web. Un mondo complesso che manda anche messaggi distorti. Si pensi al giovane che si attacca al locomotore del treno e percorre 100 chilometri per vincere una sfida social. Alla firma del protocollo erano presenti istituzioni politiche, giuridiche e scolastiche. Sentiamo il prefetto. Perché è importante questo protocollo? Beh, per due momenti fondamentali. Il primo è l'aspetto della prevenzione del contrasto, quindi un'attività tendente a prevenire quello che è l'uso distorto dei social. Il secondo aspetto, ancora più importante, è il momento educativo che ho voluto cristallizzare in questo protocollo con le istituzioni che ringrazio oggi di essere intervenute, e cioè quello di far crescere nei giovani la consapevolezza delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei social. Leggevo in questi giorni un'interessante sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha previsto che nell'ipotesi di pestaggio chi assiste viene ridotto partecipe, e quindi incappa in responsabilità anche di natura civilistica per questi comportamenti.